Ed eccola qui ragazzi, la serie completa Kinder Dragon Ball, una serie storica, la prima serie di Dragon Ball nella storia della Kinder, quindi è veramente qualcosa di incredibile, rappresenta veramente un pezzo di storia della Kinder e del mondo delle figure e delle sorpresine in generale. Avevo detto che avrei fatto di tutto per averla completa ed eccola qui ragazzi, promessa mantenuta, come sempre, serie completa. Prima di vederci le figure e le cartine, io vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina per non perdervi tutti i video sulle sorpresine Kinder, sulle sorpresine delle altre marche, sulle sorpresine del passato, per non perdervi tutti i video sulle action figure, del presente e del passato, per non perdervi tutti i gameplay dei videogames, Switch, Playstation, PC, Smartphone, Retro Games e vi invito anche ad iscrivervi al canale per non perdervi tutti gli altri contenuti relativi agli anime, ai cartoni animati, alle serie TV, alle carte di Yu-Gi-Oh! e a tanto, tanto altro ancora. Allora, partiamo con le cartine. Il fronte è uguale per tutte, ovviamente il retro cambia perché riporta il personaggio in questione, codice se vi serve, scannerizzate pure e questo è l'interno dove ci mostra appunto come va montata la figure e i movimenti che può fare. Poi passiamo a Vegeta, ecco qui Vegeta, codice per voi e poi l'ultimo Jiren, eccolo qua. E adesso ce li gustiamo uno per uno. Partiamo da Goku, eccolo qui. Fatti bene ragazzi, eh? Fatti veramente bene. Painting, ottimo. Scultura, ottima. Sono anche molto rifinite, non sono action figure ragazzi, sì è vero, muovono leggermente le braccia, muovono leggermente il busto, però ragazzi non sono delle vere e proprie action figure. Le action figure sono appunto delle figure d'azione, quindi figure che possono mettersi in diverse pose, che possono muovere gli arti in diversi modi, che muovono più o meno tutto il corpo. Qui invece c'è solo un leggero movimento. Questa è una status figure, una figura statica e molti youtuber, molti collezionisti anche purtroppo scambiano le statue per le action figure. Quindi una statua di Goku che sta facendo un'onda energetica, loro dicono che è un action figure perché appunto sta facendo l'onda energetica. Non è ovviamente così. L'action figure è quella figure che si muove sostanzialmente, che può compiere azioni. Quindi la status figure, la statua, è qualcosa di fermo, inamovibile. Nasce così, muore così. E anche se sta compiendo un'azione, sta tirando un calcio, un pugno, sta facendo una mossa, comunque rimane una figura statica. Comunque queste sono delle status figure fatte molto molto bene. Abbiamo visto Goku, ora Vegeta. Eccolo qui Vegeta. Anche lui ha un leggero movimento, però niente di che. Goku secondo me è quello fatto meglio. E Goku e Vegeta hanno i capelli in gomma. Ecco qua anche Vegeta, anche lui ha fatto bene. Però secondo me Goku è quello che gli è riuscito meglio. E poi c'è Jiren, eccolo qui. Anche lui muove le braccia, può fare un giro completo con le braccia e muove leggermente il busto. Ecco qua. Se gli fate fare un giro completo al busto si stacca, ve lo dico. Ecco qua Jiren. La figura è più semplice di questa collezione da riprodurre, però comunque anch'essa fatta molto molto bene. Ecco qua il nostro Jiren. Eccoli qua tutti e tre insieme. Serie completa ragazzi. Uno spettacolo assoluto. La prima serie di Dragon Ball della Kinder. Vi rinvito di nuovo ad iscrivervi al canale, a lasciare un bel mi piace a questo video, a commentare questo video, fatemi sapere cosa ne pensate di questa serie, condividete questo video con i vostri amici, seguitemi anche sugli altri social ed iscrivetevi ai miei altri canali YouTube dove tratto argomenti diversi da quelli trattati qui su The Golden Eagle. Trovate tutti i link in the box. E noi, come al solito, ci becchiamo al prossimo video. Ciao belli! Ciao belli!